E alla fine Luca Bogdan è un giocatore della Ternana, una trattativa difficile con le difficoltà superate grazie alla ferma volontà del marcatore centrale croato di tornare a lavorare alle dipendenze di Lucarelli dopo le esperienze in comune di Catania nella stagione 2017-2018 e di Livorno nella prima parte della stagione 2018-2019 e grazie alla grande disponibilità del neo DS della Salernitana Walter Sabatini per consentire l'operazione prestito con diritto di riscatto per la Ternana senza alcun contro riscatto, la Salernitana ha anticipato il riscatto obbligatorio da Livorno che in base agli accordi raggiunti a luglio 2021 sarebbe scattato dopo il prestito biennale al primo punto conquistato dalla squadra Granata a febbraio 2022 al club Amaranto, non quello attualmente iscritto al torneo di eccellenza ma quello di Spinelli non dichiarato fallito ma estromesso dal calcio professionistico lo scorso agosto dovrebbero andare circa 180 mila euro adesso in rosa ci sono 21 elementi per quanto riguarda la formazione rosso-verde tra over e bandiere con modibo di achiteggia fuori lista necessaria dunque una dismissione ossia una risoluzione contrattuale o una collocazione fuori lista il possente difensore centrale di Spalato ex under 19 della nazionale croata vanta 35 presenze e 2 gol in serie C nel Catania di Lucarelli e a 9 era 79 gare e 6 reti in B tra Vicenza, Livorno e Salernitana nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in A della Salernitana con 20 presenze e 18 da titolare comprese le 10 collezionate nelle ultime 11 giornate e 4 gol realizzati contro Cittadella, Brescia, Virtus Centella e Dempoli al suo attivo anche una gara in Coppa Italia contro il Sud Tirol in questa stagione è sceso in campo in Coppa Italia contro Regina e Genoa e ha collezionato 6 presenze in campionato, 2 subentrando con Bologna e Atalanta e 4 dal primo minuto contro Milan, Fiorentina, Inter e Napoli sfumato invece in extremis l'ingaggio del centrocampista Marco Brescianini, scuola Milan attualmente in prestito al Monza è rimasto Mazzocchi nonostante le tante richieste, è tornato Rovaglia dalla fermana mentre hanno lasciato Terni, Nesta approdato a Lecco in Serie C e Russo a Livorno in eccellenza